La Menarini è una piccola multinazionale che ha sede a Firenze, ma poi si propaga un po' in tutto il mondo. Qual è il vostro biglietto da visita? Il nostro biglietto da visita direi che è caratterizzato soprattutto dalle persone che lavorano con noi. Siamo 17 mila nel mondo, la maggior parte in Italia, quindi oltre 3 mila persone lavorano in Italia, nei nostri centri di ricerca, di produzione e nel quartier generale di Firenze. Poi siamo presenti in tutti i paesi d'Europa, in tutti i paesi dell'Europa dell'Est, quindi la Russia, l'Ucraina, Bielorussia e in quasi tutti i paesi dell'Asia, inclusa la Cina. Da pochi anni abbiamo messo un piede anche in Sud America. In Centro America siamo già forti da diversi anni, al punto che in Honduras siamo la prima azienda del mercato farmaceutico. Voi siete presenti non solo come industria farmaceutica, ma avete anche creato una strumentazione diagnostica. Dove? Noi abbiamo realizzato nel 2013 qualcosa di abbastanza innovativo, nel senso che abbiamo seguito e ci siamo affascinati di una tecnologia che aveva creato una piccola start-up di Bologna, che però era arrivata a un momento dello sviluppo critico perché aveva bisogno di un supporto economico molto più importante. Quindi l'abbiamo acquisita e abbiamo potuto investire in questa nuova tecnologia che consente di isolare dal sangue cellule tumorali e anche rarissime, di estrarle e di poter poi fare il DNA per capire esattamente la tipologia di tumore, le eventuali modifiche genetiche che questo tumore subisce negli anni o nei mesi. La vostra azienda si interessa anche di sociale, come? Siamo un'azienda che è molto inserita nel tessuto sociale italiano, in particolare modo fiorentino. Infatti già da qualche anno abbiamo, ad esempio con le autorità fiorentine, quindi con il comune, lavorato a un progetto di riqualificazione degli immobili di edilizia sociale per consentire a famiglie meno agiate di poter usufruire di questi immobili. Quindi abbiamo ristrutturato 50 appartamenti che poi il comune ha assegnato alle persone che ne avevano bisogno. Inoltre abbiamo realizzato e stiamo ancora realizzando un progetto su base questo nazionale per formare 15 mila medici e pediatri a riconoscere in maniera precoce eventuali segni di abuso sui bambini. Questo perché le persone un po' più deboli, quindi chi ha bisogno di una casa oppure l'infanzia, credo che siano i soggetti verso i quali una grande azienda si deve rivolgere per sostenerli. Ecco, come vede il suo futuro la Minarini? Il nostro futuro lo vediamo di grande impegno soprattutto nella ricerca oncologica. Abbiamo quattro progetti di ricerca in oncologia e un quinto che abbiamo aggiunto proprio nel mese di dicembre in collaborazione con un'azienda svizzera e che è già in una fase avanzata di sviluppo. Questo per quanto riguarda le nostre ricerche. Da un punto di vista geografico vediamo che stiamo lavorando in tante parti del mondo in maniera soddisfacente ma c'è ancora tanto spazio di crescita. Vediamo che i pazienti ad esempio cinesi apprezzano particolarmente i nostri farmaci, quindi pazienti e medici asiatici, Cina, il Vietnam, ma anche in Messico oppure in Polonia vediamo che ci sono grandi margini di crescita. Ecco, l'economia frena un po' in tutto il mondo, dalla Cina, adesso abbiamo gli ultimi dati dell'Europa, siamo se non in stagnazione diciamo in recessione. Ecco, com'è la salute dell'industria farmaceutica italiana? La salute dell'industria farmaceutica in Italia è fino ad oggi ottima. Pochi sanno che il settore ha realizzato un primato straordinario, cioè siamo diventati il primo paese in Europa superando nel 2018 la Germania come produzione di farmaci che esportiamo dall'Italia per oltre il 70%. Quindi l'industria farmaceutica in Italia è un motore straordinario di traino per l'economia e l'occupazione. Siamo un pochino preoccupati perché c'è qualche misura di cui sentiamo parlare in ambiente governativo che un pochino ci preoccupa. Ecco, se dovreste chiedere una cosa al governo, quale chiedereste? Che cosa ritenete che sia più importante per lo sviluppo? Noi chiediamo poche cose. La cosa più importante di tutte è soprattutto assicurare stabilità. È ovvio che abbiamo fatto tantissimi investimenti e ancora molti ne stiamo facendo per creare delle strutture in grado di produrre la quantità di farmaci di cui dicevo prima. Queste strutture sono strutture costose, hanno bisogno di essere riempite di produzione, quindi abbiamo bisogno di lavorare su tre turni e per poterlo fare di essere efficienti. Ipotesi di cui si sente parlare di, ad esempio, ridurre la rimborsabilità in Italia a un solo farmaco per categoria significherebbe mettere automaticamente le nostre strutture produttive fuori della competitività internazionale e quindi torneremo indietro di oltre dieci anni nello sviluppo del paese.